Ben tornati con le consuete previsioni a cura di meteo 1. L'alta pressione defilata ad ovest favorirà un peggioramento del tempo per il transito di un impulso d'aria più fresca a nord atlantica, con rovesci prima al nord e poi su parte delle regioni centrali verso le ore serali. Al sud ancora bel tempo con qualche sporadico isolato rovescio sull'Appennino, in attesa del peggioramento di Pasqua. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 15 aprile. Giornata nel complesso soleggiata, salvo qualche innocuo annuvolamento sui settori appenninici della Basilicata. Locali deboli piogge solo nelle aree più interne occidentali della Lucania. Dalla sera nubi in intensificazione ad iniziare dai settori settentrionali. Temperature in diminuzione, specie nei valori massimi e durante la sera. Ventilazione debole dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi. Da oggi un nuovo servizio gratuito, previsioni sul vostro telefono, aggiungendo dall'App Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. E ricordate, per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Laku, che ci delizia con questo mare cristallino a rocca vecchia in Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie di vederci e al prossimo appuntamento.